Salve ragazzi e ragazze, oh, quello che è. Il mio nome è Capitan Jack Sparrow. Eh, avete sentito parlare di me? Come forse saprete ci sono volte, quasi tutte le volte, che preferisco guardare il mondo attraverso un bicchietto. De rum, questa è una bottiglia. Oh! E avrete anche sentito girar voce che il gruppo Teatro Bagai si presenterà a settembre con un ambizioso progetto. Non vero, proprio no. Ma anche se non fosse non vero, a voi non interessa unirvi a me. Ehi? Beh, vai, vai. Non vero, è lei. Non vero. Non vero, è lei. La mia musica è importante. No. Oh!